Si chiama Vivere Liberi ed è un'associazione nata per difendersi dalla illegalità, innanzitutto da quella che chiede tangenti e lo fa a suon di minacce e attentati, insomma il racket. Vivere Liberi è nata a Foggia, città ritenuta troppo timida nel reagire alla criminalità organizzata. Vivere Liberi si propone appunto di risvegliare le coscienze con attività di propaganda in pubblico anche nelle scuole e naturalmente aiuterà chi vuole uscire dalle grinfie degli estorsori e degli usurai. L'associazione garantisce assistenza legale gratuita e si costituirà parte civile insieme alle vittime nei processi penali. Raccoglierà le denunze di chi ha deciso di ribellarsi e farà da tramite fra la vittima e le forze dell'ordine. Non si occuperà soltanto di casi apertamente violenti. Nello statuto è prevista assistenza anche a chi si imbatte in quel fenomeno più subdolo che è la corruzione nella pubblica amministrazione. Vivere Liberi non aderirà alla federazione anti-racket presieduta da Tano Grasso che più volte ha sollecitato Foggia a dar vita ad una associazione del genere. Per il momento i soci di Vivere Liberi sono sei. Unico imprenditore fra loro è il presidente Settimio Foglietta, editore di giornali di annunci. A Foggia qualunque cosa diventa difficile. Le istituzioni a volte in questa città fanno finta di non capire e di non sentire. Questo è il grosso problema. però la cosa per quanto ci riguarda non mi spaventa e non ci spaventa.